Perchè non mi racconti? Perchè probabilmente non mi crederesti. Ecco, ti voglio che tu la veda. E quando la vedrai, avrai le risposte e le prove che ti servono. Perchè probabilmente non mi crederai. Perchè probabilmente non mi crederai. Quello con la tua amica? Già, che lei è successo. Ascoltami, se cerchi risposte devi essere pronta anche a offrirne. Hai proprio ragione. Mi sembra giusto. Perchè probabilmente non mi crederai. Debora! 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 Mi senti? Grazie al cielo! Ok. Basta con i misteri. Che diavolo sta succedendo? Portiamola fuori da qui. Poi ti dirò tutto. Te lo prometto. Su, tieni duro. Prenditi cura di lei e lascia a me i nemici. Prenditi cura di lei. Deborah, riesci a sentirmi? Ti riporterò a casa. Non mi crederai. Gravna! 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 Aiuto! Il tetto cede! Muoversi. Bel lavoro! Il tetto cede! Cleon, Elena, dove siete? Non individuo la vostra posizione. Che diavolo sta succedendo? Annigan, rispondi! Bel lavoro. Di qua. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non è possibile. No, non è possibile. Ada! Sembra che tu abbia visto un fantasma. Ada, che diavolo sta succedendo qui? È complicato. Ma non è né il momento, né il posto giusto. Le passerelle non reggeranno. Andiamo ai livelli inferiori. Mi dispiace, Deborah. È tutta colpa mia. Elena, via da lei! Baby! Va farai! Deborah, dove sei? Ok. Qui. Un anello. Non farti strane idee. Più tardi capirai. Ok. 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 Alla! Andiamo! Andiamo! Non so la parte! Quai! E? 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 Ehi! Ma c'è? Attenti voi due! È forte! Fai attenzione tu! Deborah! Se hai un minimo di compassione per lei, devi eliminarla. È un inizio! Non può essere vero! Mi serve aiuto! Ehi! 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 Oh no! 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 Oh no!